Amici sportivi di Levante e Sport TV, rinnoviamo l'appuntamento con lo Spazio Pro anche questa settimana. Iniziamo questa settimana proprio approfondendo quella che è stata l'ultima domenica del campionato di seconda divisione nazionale Lega Pro e naturalmente approfondendo in particolare quella che è stata la gara dell'Intella, gara casalinga contro la Valenzana che ha lasciato molto rammarico fra le file bianco-celeste e maturato questo 1-1 con la partita che si era messa male in quanto a metà ripresa è arrivato il vantaggio degli ospiti, poi però c'è stata una grandissima reazione per la squadra di Cristiano Baci che in precedenza aveva sciuppato molto, aveva mancato molto occasione da rete come vedremo poi nel filmato e alla fine per fortuna è riuscita appunto a readrizzare questa partita, una partita che sotto l'aspetto qualitativo la squadra ha costruito molto, ha lottato molto, ha avuto solo la pecca di sbagliare proprio sotto porta alcune delle molte occasioni create anche ieri, però credo che appunto non sia il caso di appunto suonare nessun campanello d'allarme in quanto anche ieri la squadra si è espressa a livello di gioco molto bene era una partita difficile da interpretare perché la Valenzana è venuta a chiavere con il chiaro intento di portare via punti preziosi per la classifica, oltretutto uguali a quella dell'Intella e effettivamente l'atteggiamento tattico della squadra piemontese è stato molto, ma molto prudente salvo poi punire l'Intella nell'unica occasione avuta a disposizione per la verità un e mezzo regalo appunto della difesa chiavarese ma andiamo con ordine come sempre partendo dai risultati, ricordiamo che eravamo alla seconda giornata del girone di ritorno andiamo quindi a vedere il tabellino, non ci sono state grosse sorprese, anzi una giornata che ha visto soltanto due vittorie oltretutto entrambe in trasferta, quella della Canavese e quella del Savona e il resto tutti i pareggi che di fatto lasciano la classifica un po' come stava andiamo nel dettaglio, Sacilese-Canavese 0-1, la vittoria dei Piemontesi in trasferta sul campo difficile della Sacilese Sacilese è sempre più coinvolta nella bagarre per non retrocedere Renate-Lecco 1-1, ancora in vantaggio il Lecco ha cercato di fare il colpo anche sul campo del Renate è stato raggiunto poi dai nerazzurri padroni di casa nel corso del secondo tempo Montichiari-Provercelli 1-1, anche qui Montichiari ha realizzato una partita che vedeva la Provercelli in vantaggio con un gol di malatesta Casale-Rudengo 0-0, partita in colore, il Casale che ancora non riesce assolutamente a trovare la giusta via e così come Sanremese e come la Sacilese rimane clamorosamente e pericolosamente invischiato nella bassa classifica L'anticipo di sabato fra Mezzocorona e San Bonifacese è terminato 1-1, anche questo è un risultato che lascia di fatto le cose come stanno per entrambe le squadre San Bonifacese che ha una classifica medio-alta, il Mezzocorona che invece anch'esso è abbastanza coinvolto nella lotta a non retrocedere e poi abbiamo il derby con Sanremese-Savona, Sanremese in vantaggio con il nuovo acquisto Sifonetti Savona che riesce nel corso del secondo tempo a impattare grazie a un gol di Tarallo e poi al 92esimo la Beffa per la formazione Sanremese, il gol del nuovo acquisto Cosimo Tedesco è entrato in campo all'inizio di presa così come Capuano, un altro degli ultimi arrivati in casa bianco-blu che è stato impiegato da Foschi all'inizio di presa e c'è stato appunto il gol del 2-1 proprio nei minuti di recupero che ovviamente alla Sanremese che non è nuova a questo tipo di esploi negativi ovviamente lascia moltissimo, moltissimo rammarico, moltissimo amare in bocca Mango alla fine era veramente sconsolato, ha detto incredibile perdere una partita del genere poi comunque andremo a vedere anche qui nella rassegna stampa i commenti a questa partita concludiamo con Ferralpi e Salò a Trissimo 1-1, un derby che ha visto appunto le due squadre più o meno equivalersi è andato in vantaggio, la Trissimo poi è stata raggiunta dai padroni di casa e infine appunto lo stesso 1-1 fra Entella e Valenzana ha riposato in questa seconda giornata la capolista Propatria andiamo a vedere la classifica, Propatria rimane al comando con 40 punti ricordo che sulla Propatria pende il deferimento della commissione disciplinare che ha rinviato l'esame della pratica riguardante la formazione Bustocca a marzo quindi se ne saprà di più fra qualche tempo poi abbiamo la Trissimo 35, questa è una classifica già aggiornata con quelli che sono stati i punti di penalità assegnati alle squadre durante l'ultima sentenza della commissione disciplinare poi abbiamo la Proverceglia 34, Lecco a 33, Ferralpi a 30, San Bonifacesa 26, Savona 22 insieme a Rodengo, 21 punti per Canavese e Renate, 19 per Entella, Montichiari e Valenzana e poi abbiamo una zona come dicevamo calda Saciliesa 13, mezzo Corona 12, 11 il Casale e 9 punti ancora in ultima posizione per la Sanremese dunque come dicevamo una giornata che ha cambiato poco per quanto riguarda le sorti della classifica ma tornando invece alla partita di Chiavri abbiamo detto di come fosse di difficile approccio questa gara, la Valenzana era una squadra che già era andata avevamo visto sicuramente una formazione molto equilibrata una formazione che ha qualche buona individualità ma una formazione basata sui giovani i giovani che come sapete in alcuni casi forniscono contributi alle società che li impiegano pertanto nella società piemontese c'è molta attenzione a questo aspetto e quindi si cerca di ottenere dalla Lega in questo senso quanti più contributi possibili impiegando appunto molti giovani nell'undici iniziale questo è accaduto anche ieri una squadra che il mister Rossi mette in campo molto ordinatamente che non ha particolari tatticismi un modulo molto regolare molto attento naturalmente a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario è una squadra che ripeto tutto sommato ha fatto la sua onesta partita iniziando meglio dell'Intella avendo un'occasione per prima con Ridolfi che poi vedremo appunto nei highlights e poi c'è stata però la reazione dell'Intella che nel corso del primo tempo già aveva creato tre occasioni da rete molto nitide due con Cargioli e una con uno schema su calcio d'angolo sul quale Masi è andato a battere la botta sicura ha trovato poi una deviazione sfortunata di un difensore della Valenziana che di fatto ha un po' smorzato il pallone facilitando l'intervento del portiere Serena e poi nella ripresa come dicevamo c'è stata ancora qualche occasione per l'Intella quindi è arrivata questa doccia fredda a metà ripresa del gol piemontese e da lì in poi si è vista effettivamente l'Intella che siamo abituati a vedere ultimamente molto aggressiva, molto capabia, molto determinata che è riuscita appunto nell'ultima mezz'ora ad arrembare verso la porta piemontese e per la verità anche dopo il gol del pareggio arrivato grazie a Daniele Vasoio si pensava che la squadra negli 8-9 minuti rimanenti potesse fare addirittura il colpaccio c'è stata anche la speranza di poter appunto ottenere questo risultato perché la Valenziana ha avuto un atteggiamento molto istruzionistico durante tutto il secondo tempo soprattutto dopo essere passata in vantaggio un arbitraggio purtroppo ancora una volta dobbiamo segnalarlo non all'altezza ha fatto sì che poi dei 4 minuti assegnati di recupero oltretutto anche in questo caso bisognerebbe che ci si mettesse un po' d'accordo perché si parlava quando appunto si era voluto dare una regolamentazione anche ai tempi di recupero si è parlato di 30 secondi per ogni cambio bene ieri sono stati effettuati 6 cambi nel corso della ripresa quindi di fatto solo quelli sarebbero varsi 3 minuti di recupero sono stati un paio di incidenti ai giocatori della Valenziana che per la verità sono caduti a più riprese sono stati a terra per parecchio anche durante le ammunizioni sono stati combinati mi pare 5 nel corso della ripresa l'arbitro ha perso almeno 30 secondi a ogni ammunizione perché hanno sempre questi atteggiamenti molto plateali molto attenti a rendere questo momento troppo spettacolare e quindi tutta questa somma ha fatto sì che 4 minuti di recupero fossero veramente pochi di questi 4 almeno un paio si sono persi anche in questo caso per infortuni veri o presunti che i giocatori della Valenziana hanno accusato anche nei minuti di recupero e di fatto poi ci sono state le vibranti proteste come vedremo alla fine dei giocatori chiavaresi nei confronti del direttore di gara perché effettivamente nell'ultima parte è mancato assolutamente di polso e di soprattutto autorità nei confronti di questi atteggiamenti che erano evidentemente ostruzionistici ma andiamo con ordine partiamo intanto come sempre dai filmati abbiamo lasciato di consueto l'audio originale per farvi rivivere le emozioni di questo 1 a 1 fra Intella e Valenziana